La mostra Augustea della Romanità, che documenta tutti gli aspetti della vita latina, la scienza, l'arte e l'altissima civiltà dell'urbe de Cesari, inaugurata dal Duce all'inizio dell'anno del bimillenario d'Augusto, nel clima radioso dell'alba del nuovo impero di Roma. Grazie! La sala dell'impero, con i suoi calchi di monumenti a carattere trionfale, come questo rilievo di sacrificio compiuto da un imperatore, probabilmente traiano, dinanzi ad un grande tempio, può dirsi il salone d'onore della mostra voluta dal Duce, il cui sacrario può dirsi la sala dedicata ad Augusto, dove, sormontata dal brano di Svetonio che ne esalta la nascita, ci appare la statua del primo imperatore, raffigurato come capo dell'esercito con corazza e paludamento, per la cui grandezza, come ci ricorda Florio, solo il titolo di Augusto fu trovato adeguato dal senato romano e preferito quale crisma di immortalità. E che, nella grande nicchia dorata, ci appare raffigurato come genio benefico, con il corno dell'abbondanza in una mano e la patena per i sacrifici nell'altra. Dalla sala, le cui pareti illustrano lo sviluppo dello stato romano, durante le guerre civili, passiamo nella sala dedicata a Giulio Cesare, dove, per glorificare il massimo genio militare di tutti i tempi, sono raccolti modelli di macchine da guerra, di opere di assedio e di fortificazioni, tutti eseguiti secondo le descrizioni dello stesso Cesare nel Debello Gallico, fra cui alcuni tipi di arieti ed un settore del ponte su cavalletti fatto costruire da Cesare sul Reno nel 55 avanti Cristo. Il duce nella sala dell'agricoltura e agrimensura con l'onorevole Giglioli, organizzatore e direttore della mostra. I celebri versi a Roma del carme secolare di Orazio preparano a contemplare la grande ricostruzione plastica dell'architetto Gismondi, della capitale del mondo nel suo periodo di massimo splendore. Tra i marmori edifici di una maestà e di uno stile incomparabile si individuano facilmente il Campidoglio e in basso il teatro di Marcello, il Circo Massimo, la Rocca Capitolina, il Tempio di Giove, la Basilica di Massenzio, il Tempio di Venere e Roma e sullo sfondo la sagoma inconfondibile del Colosseo. Grazie a tutti.